amici bentornati sul canale nomina giri elaborazioni auto sportive oggi giorno di festa oggi abbiamo una macchina veramente speciale veramente speciale perché questa è una macchina direi unica nel suo genere ne ha fatte veramente poche macchina che oltre al costo della macchina del genere siamo secondo me oltre i 200 mila euro quindi se ne vedono ben poche ma è una macchina veramente incredibile do due dati giusto per inquadrare il ferro come si come si suol dire questa è una mercedes mg gtr con la sigla mercedes c 190 questa è diciamo la caratteristica di questa macchina che è una sportiva pura quindi rispetto a tutte le sportive di casa mg che sono bene o male derivate dai modelli di serie praticamente mg fa di quasi di tutti i modelli da quello che mi risulta la versione sportiva mg quindi nella classe a la classe b la classe c addirittura la classe g fuori strada diciamo di casa mercedes c'è la la versione mg questa invece nasce indipendentemente da già nasce così cioè la versione come dicevo gtr la differenza che c'è la versione diciamo base se vogliamo chiamare la base è la versione gt normale questa è una versione potenziata per cui ha più cavalli rispetto alla versione di serie sono macchine che sono state prodotte dal 2014 al 2022 e con un motore vuoto 4000 di cilindrata con lo schema transax nel senso che al motore anteriore diciamo posizionato prevalentemente nella parte diciamo il più possibile arretrata dall'asse anteriore in modo tale da calibrare i pesi che sono 47 per cento anteriore più o meno un 50 poco più di 50 53 per cento sul sul posteriore come ecco alta caratteristica di questo motore carter secco iniezione diretta bi turbo le due turbine adesso facciamo vedere ecco come potete come potete vedere le due turbine sono posizionate al centro della v una e una due questa appunto è la v dell'otto cilindri e le due turbine sono posizionate esattamente al centro come tutte le mg una chicca è diciamo l'identificativo del diciamo del motorista che ha assemblato il motore quindi handcrafted significa fatto a mano in sostanza da questo andrew ciapa che li è non riesco a a leggere la firma comunque è un individuo in carne e ossa che ha assemblato questo motore andando oltre con i dettagli di questa vettura sviluppa 585 cavalli quindi rispetto alla versione diciamo standard a più cavalli rispetto alla gt normale questa qua è una versione potenziata coppia da 700 newton metri due dati per far capire di cosa stiamo parlando 0 a 100 in 3.8 e 310 km all'ora autolimitati nel senso che se andiamo a toccare l'auto lo sblocco tramite centinaia elettronica questa qua arriva tranquillamente olti 330 quindi è stata autolimitata a 310 cambio dopo frizione sette marce differenziale posteriore autobloccante elettronicamente questa è un'altra differenza con la versione diciamo base chiamiamola così che al differenziale autobloccante meccanico questo ce l'ha controllo elettronico altra caratteristica è la scocca portante mercedes la chiamano space frame completamente in alluminio sono moduli assemblati in alluminio questo ovviamente per contenere il peso in maniera diciamo il più possibile in maniera tale da migliorare quello che rapporto peso potenza altri dati cosa posso dirvi le sospensioni sono a controllo elettronico quindi vengono definite ride control i freni in questo caso sono carboceramici disco flottante da 402 millimetri sull'anteriore posteriore mi sembra che sia 3 90 quindi direi che da un punto di vista prestazionale tecnico mercedes ha fatto veramente un capolavoro direi che quando ci si mette difficile trovare di meglio quello che è stato fatto su questa macchina sostanzialmente sono al di là del del trapping perché questa macchina nasce fatto dal cliente ma fatto fare dal cliente mi sembra che fosse un grigio grigio scuro la macchina tra l'altro cliente persona estremamente simpatica quindi devo dire un frappi veramente incredibile questo verde cangiante molto 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 particolare quello che è stato fatto come dicevo la preparazione motore quindi i due down pipe attaccati appunto le due bancate con i catalizzatori sportivi lo scarico a questo punto dopo accenderemo la macchina vi faremo sentire che che timbro ha questa questa macchina e ovviamente la rivisitazione della centrale elettronica in sostanza questa macchina è passata da 580 a oltre 700 cavalli veramente un cioè qui o se è un manico a guidare questa macchina qui o se no è veramente è meglio che la lasciate chiusa in garage e ve la guardate per la bellezza che è la forma è meglio che non rischiate di fare un dritto da qualche parte visto soprattutto quello che costa altra cosa che abbiamo fatto sono i distanziali questi sono i piattelli distanziali che abbiamo inserito sia l'anteriore che il posteriore in maniera tale da portare le ruote alla misura giusta ovviamente non possono essere a filo perché come ho detto tante volte il distanziale deve essere si deve trasladare la ruota verso l'esterno ma non può arrivare a fila per questioni di sicurezza quindi abbiamo fatto fare questi questi distanziali appositamente per questa macchina con dei bulloni particolari con una rondella particolare che ha solo questa macchina in maniera tale da portarla esattamente a filo lo stesso cliente ci ha portato una jaguar f-type per fare lo stesso lavoro visto che più o meno lavoriamo benino e quindi abbiamo sviluppato questo tipo di intervento anche su questa macchina particolare adesso casomai mirco accende la macchina vi fa sentire la differenza tra la comunità stock e la comunità con valvola aperta ok ecco spegniamo perché purtroppo per fortuna abbiamo un'officina di fianco al centro abitato vorrei che evitare di avere diciamo contestazioni per eccessivo rumore direi che il sound parla da solo così come parla da sola questa vettura che io reputo veramente una delle più belle che ci sono oggi in circolazione anche il muso davanti mi ricorda le mercedes degli anni che furono anni 50 le mercedes che correvano gli anni 50 la cui caratteristica peculiare era il fatto che per alleggerire vi do una chicca proprio per alleggerire la struttura addirittura ecco perché sono nate le mercedes le frecce d'argento la scocca di queste macchine che aveva un muso sostanzialmente identico a questo non erano verniciate quindi e avevano l'alluminio a vista per risparmiare quei tre chili quattro chili che poteva incidere la vernice erano state tenute grezze in alluminio e da lì è nata quello che era la caratteristica peculiare delle mercedes da corsa cioè le famose frecce d'argento sono nate proprio con questo con questo tipo di escamotaggio io direi che per oggi è tutto per questa mercedes veramente particolare che speriamo ci auguriamo di avere ancora in officina o comunque di averne altre similari sarà molto difficile perché penso che siano veramente poche nelle macchine di questo genere che cercano oggi in italia direi è tutto per qualunque genere di informazione come dico sempre ci potete contattare in sede quando volete l'importante che clicchiate sulla campanella se siete contenti di quello che vi facciamo vedere e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima